ciao a tutti e bentornati sul canale oggi video makeup tutorial su il teschio messicano ho deciso di realizzare questo makeup appunto per la giornata di halloween e ho deciso di realizzarlo con i colori rosso e nero con questi cuori ultra brillantinosi ma andiamo al tutorial per prima cosa vado ad applicare e a stendere sul mio viso questa base bianca che ho trovato in un negozio opposito per i trucchi di halloween e la vado a stendere con l'utilizzo della mia beauty blender in modo tale da rendere l'incarnato il più omogeneo possibile successivamente vado ad applicare questa cipria translucida della essence in modo tale da opacizzare tutto l'incarnato come primer occhi uso questo di nyx e lo vado a posizionare su tutta la mia palpebra mobile successivamente utilizzo questo eyeliner della debora per contornare i miei occhi creando una sorta di cuore questo in particolare è molto comodo perché la punta molto sottile e precisa vado poi a prelevare una base cremosa un ombretto cremoso nero da mettere in tutto il contorno del mio cuore in modo tale da avere una base gelatinosa e morbida su cui poi andare a fissare un ombretto da questa palette di debora milano vado a prelevare quindi un ombretto nero molto più scuro e lo vado proprio a picchiettare sopra mia base nera precedentemente cremosa in modo tale da intensificare maggiormente il colore intorno di mio occhio e quindi a renderlo ancora più profondo e scuro e dark sulla palpebra mobile invece vado ad applicare questa base rossa sempre per lo stesso motivo di prima ossia per avere una base abbastanza neutra e rossa poi prelevo dalla palette nyx questo colore rosso corallo e lo vado ad applicare picchiettandolo e sfumandolo con un pennellino da sfumatura proprio sulla base cremosa con questo rossetto di chanel poi molto rosso e con i brillantini vado ad intensificare ulteriormente il colore specialmente sopra la palpebra mobile e sotto il contorno dell'occhio vado poi infine ad applicare questa matita della essence sempre rossa che sarebbe per labbra ma io in questo caso lo uso per la rima interna dell'occhio per dargli un aspetto ancora più sanguigno poi vado a prendere queste palette rosse adesive con cui andrò poi a incorniciare tutto il mio cuore intorno agli occhi successivamente vado a prendere questo eyeliner di miss broadway che è una punta molto sottile e vado a creare sulla mia fronte questo cuoricino nero e ne creo successivamente uno anche sul mento ma stavolta capovolto vado poi a prendere questo rossetto della kiko nero molto molto dark e con questo rossetto vado a riempire tutto il mio cuoricino sia quello sopra la fronte che quello sul mento infine sempre con la liner di miss broadway vado a ricontornare e a perfezionare i contorni appunto dei miei cuoricini vado poi a posizionare un brillantino rosso al centro del cuore e con la matita rossa sempre della essence vado a contornare le mie labbra con il rossetto di prima di chanel vado quindi a riempire le mie labbra ma solo esternamente all'interno invece vado ad applicare il rossetto nero che ho utilizzato prima per creare i cuori e lo vado a utilizzare principalmente all'interno dell'incavo della bocca e ai lati utilizzo quindi questa tinta labbra della dell'angi che è una tinta labbra color rosso sangue che mi piace tantissimo e la vado ad applicare solo esternamente proprio sul profilo della bocca andando poi a sfumare tutti i tre colori con una mattita nera vado sempre quindi a delineare il contorno dei miei zigomi e vado a creare appunto i denti poi con il rossetto nero vado a riempire appunto la parte degli zigomi dandogli ancora più e poi lo vado a sfumare con un pennello apposito per sfumatura vado a riempire ancora di più l'incavo degli zigomi per dargli ancora maggiore tridimensionalità e poi con la base iniziale che avevamo utilizzato bianca vado a riempire i denti vado poi a portarli a sfumarli con un cotton fioc verso il basso e verso l'alto e riprendendo il mio eyeliner vado a ridefinire appunto i dentini quindi con un ombretto grigio vado a creare delle ombrature lungo tutta la mia macella la mia bandibola e poi successivamente intorno a tutto il cranio in modo da dare più tridimensionalità al volto e vado a creare infine il mio naso ossia il buco dove dovrebbe esserci il naso in realtà andando sempre con l'eyeliner a definirlo e poi a riempirlo con il rossetto nero quindi con un pennellino di precisione vado a definire ulteriormente il buco e poi vado a creare delle piccole crepe intorno appunto alle tempie e le vado a disegnare ancora meglio con l'eyeliner con la punta fine in modo che risulti più realistico vado quindi ad applicare un brillantino sul cuore e sul mento e poi vado a portare un po' di rossetto rosso e a sfumarlo proprio dove ci sono le mascelle quindi vado ad applicare delle ciglia finte un po' particolari, un po' brillantinose sugli occhi e vado ad applicare sempre due brillantini alla fine dell'occhio nella parte esterna quindi vado a sciogliermi i capelli qui ho provato a vedere se mi piacevano sciolti e sono andata a mettere due orecchini che mi piacevano tantissimo che hanno ispirato il mio trucco che sono questi orecchini di Bijou Brigitte con appunto dei cuori rossi finali e questo quindi era il tutorial del mio trucco spero che vi piaccia fatemelo sapere giù nei commenti e io vi aspetto al prossimo video buon Halloween!